Bentornati amici, dopo l'episodio dedicato al contrasto ci è sembrato doveroso farne un secondo dedicato alla saturazione in quanto questi sono i nemici amici più frequenti quando si manipolano le immagini soprattutto su un software assolutamente non professionale come l'editor di instagram andiamo a vedere come è possibile inserire maggior saturazione nelle nostre immagini e come è possibile farlo senza distruggere queste ultime senza avere problemi di bending o di pixel devastati ma vi consiglio di aspettare fino alla fine del video perché solo allora vi dirò secondo me qual è il migliore di questi metodi innanzitutto cerchiamo di capire che cosa succede quando andiamo a inserire della saturazione lo facciamo con il livello di regolazione tonalità e saturazione andiamo a fare una modifica estrema perché portiamo lo slider praticamente al massimo quello di cui ci rendiamo subito conto è che l'immagine può sembrare più gradevole ma in realtà se la guardiamo da vicino questa modifica ha portato fuori tanti piccoli difetti che prima erano invisibili inoltre una modifica di questo tipo al momento può sembrare gradevole ai nostri occhi ma non appena questi avranno avuto modo di abituarsi a questo cambiamento cromatico un'immagine di questo tipo ci stancherà la vista molto facilmente e se ci saremo riempiti il feed o il nostro progetto se stiamo lavorando a qualcosa di più serio di immagini con questo livello di saturazione sicuramente non faremo una bella figura con amici e o clienti e probabilmente ce ne pentiremo di lì a breve dunque come agire per avere un effetto di saturazione più gradevole sulle nostre immagini innanzitutto eliminiamo questo livello di regolazione vi faccio vedere il fratellino piccolo della saturazione ovvero la vividezza in inglese vibrance andiamo a vedere come nel momento in cui aumentiamo la saturazione otteniamo un effetto globale sull'immagine di saturazione aumentate vengono portati fuori un sacco di gialli e di verdi nella parte inferiore dell'immagine che non regalano particolari emozioni alla nostra immagine in questo caso diciamo che non è assolutamente quello che vogliamo dal momento che non è nostra intenzione stare qui a lavorare di pennelli e maschere per cercare di eliminare questa saturazione da certe parti lasciandola solamente in certe altre proviamo a vedere che cosa succede se invece della saturazione lavoriamo sulla vividezza la porto su a 100% una cosa che normalmente non farei ma così ci rendiamo ben conto dell'effetto che abbiamo ottenuto come potete vedere a prima vista la vividezza lavora in modo completamente diverso dalla saturazione infatti non porta tutti i colori allo stesso livello ma solamente quelli che hanno un livello di saturazione inferiore per cui i colori per esempio come i verdi o i gialli nella parte bassa dell'immagine che sono già abbastanza saturi rimangono quasi inalterati subiscono ovviamente una modifica ma proporzionalmente molto meno rispetto alla modifica che invece subisce il blu del cielo che probabilmente è il colore più spento all'interno di questa immagine i verdi degli alberi ne risentono ma in maniera comunque molto più delicata e se andiamo a esaminare l'immagine più da vicino abbiamo meno difetti che vengono messi in luce da questa modifica abbiamo meno fringing e abbiamo meno problemi di artefatti in generale questo è un metodo molto migliore per portare la saturazione della nostra immagine a un livello accettabile ora andiamo a vedere un altro metodo di ottenere un risultato più o meno simile ma in maniera completamente diversa questo è stato definito il metodo più naturale possibile per introdurre saturazione all'interno di un'immagine andiamo a creare un livello di regolazione inverti come potete vedere questo livello di regolazione non fa altro che invertire i colori all'interno della nostra immagine sostanzialmente in questo momento l'abbiamo distrutta perché abbiamo invertito la polarità dei nostri colori che cosa succede però nel momento in cui gli andiamo a dare metodo di fusione sottrai sostanzialmente stiamo sottraendo da un colore il suo opposto a questo punto possiamo andare a diminuire l'opacità del nostro livello la portiamo a valori veramente bassi perché altrimenti l'effetto sarà troppo forte andiamo a vedere che quello che è successo è che abbiamo aumentato effettivamente la saturazione dei nostri colori perché laddove c'era un blu abbiamo invertito e sottratto il colore opposto per cui per esempio dai ciano del cielo abbiamo estratto i rossi ora questo metodo da solo come potete vedere tende a scurire l'immagine a dare anche un contrasto che potrebbe essere indesiderato per questo motivo andiamo a fare doppio clic nello spazio vuoto intorno al nome del nostro livello questo porterà fuori le opzioni blend if ora noi andiamo a sottrarre i neri dal livello sottostante in questa maniera quello che succede vedete è che abbiamo un grandissimo controllo e riusciamo a spegnere questo livello sulle aree più scure della nostra immagine in questo modo come potete vedere abbiamo aggiunto contrasto solamente alle aree chiare che ne avevano bisogno ovviamente quest'ultimo step viene fatto solamente se è necessario in questo caso secondo me l'immagine veniva scurita troppo e non era quello che desideravo per questo motivo vado a compiere questa ulteriore manovra ma ci sono casi in cui la modifica può andare bene già semplicemente con questo livello modificato in questa maniera andiamo a vedere meglio come funziona questo procedimento su un'immagine un po diversa qui abbiamo una tavolozza di colori e andiamo a eseguire lo stesso procedimento per cui apriamo un livello di regolazione inverti come possiamo vedere i nostri colori sono stati completamente ribaltati laddove c'era un rosso adesso c'è un ciano laddove c'era un giallo è diventato un blu a questo punto che cosa facciamo metodo diffusione andiamo a selezionare sottrai vediamo che immediatamente la situazione è cambiata perché adesso abbiamo tutti i nostri colori molto più scuri e molto più carichi ovviamente così è troppo per cui andiamo a prendere lo slider dell'opacità e lo tiriamo giù fino a quando i livelli non diventano accettabili andiamo a vedere un prima e un dopo e ci rendiamo conto che da un lato abbiamo saturato maggiormente tutti i nostri colori perché a ogni colore abbiamo estratto il suo opposto ci rendiamo anche conto però di come abbiamo scurito tutti i neri e i grigi mentre il bianco è rimasto inalterato a questo punto che cosa facciamo se questo livello ci va bene così com'è possiamo tenerlo in questa maniera se invece vogliamo alleggerire un pochettino le nostre ombre perché le reputiamo troppo cariche di contrasto andiamo a fare doppio clic viene richiamata la finestra delle opzioni blend if andiamo a tenendo premuto alto option andiamo a spezzare questa manovella andiamo a portare questo slider tutto a destra e vediamo che la nostra immagine già si scarica un pochino andiamo a fare la stessa cosa anche con la seconda e vedete che qui abbiamo il pieno controllo di quanto vogliamo caricare i nostri colori e di quanto vogliamo caricare i nostri grigi andiamo a vedere prima e dopo e ci rendiamo conto di come abbiamo saturato maggiormente la nostra immagine cercando di tenere i grigi più scarichi possibile se fosse troppo poco andiamo a restituirgli un pochino di carica sui colori scuri e quindi andiamo a vedere che abbiamo maggiore saturazione nella parte alta dove ci sono i nostri colori anche se abbiamo un pochettino di contrasto in più nella parte bassa dove ci sono i chiari e gli scuri ora vi domanderete ma tra tutti questi metodi qual è il migliore per saturare maggiormente le nostre immagini ebbene secondo me nessuno di questi io personalmente ne utilizzo sempre un altro che vi faccio vedere per ultimo bene amici siamo arrivati verso la fine del video e sto per rivelarvi qual è secondo me il metodo migliore per aumentare la saturazione all'interno delle nostre immagini il livello di regolazione che utilizzo per portare a termine questo compito è selective color correzione colore selettiva in italiano andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui utilizziamo questo livello sopra la nostra immagine ma prima apriamo il pannello delle info se non lo trovate è dentro nelle finestre trovate qui info e lo abilitiamo adesso andiamo a prendere lo strumento contagocce e utilizziamo il color sampler tool quello che andiamo a fare è che andiamo a posizionare un sampler sul rosso e un sampler sul verde possiamo farlo su tutti i colori utilizzo questi due semplicemente per scopi dimostrativi per farvi vedere quello che stiamo andando a fare stiamo lavorando sui rossi per esempio e quindi qui abbiamo i nostri rossi e qui abbiamo i nostri verdi campione 1 e campione 2 come riportato dalla nostra immagine ora visto che correzione colore selettiva lavora sui colori di quadricromia quello che facciamo è che andiamo a selezionare quadricromia sui nostri campioni in questo modo vediamo qui gli stessi parametri su cui stiamo lavorando con il nostro livello di regolazione ora partiamo da principio stiamo targettizzando i rossi per cui apriamo la tendina dei rossi in questo momento stiamo lavorando solamente sul colore rosso ovviamente l'arancione contiene un po di rosso ci sono altri colori che contengono un po di rosso per cui questa modifica non avrà effetto solo sui rossi ma noi facciamo quello che possiamo per targettizzare solamente le aree rosse vediamo che cosa succede nel momento in cui andiamo a muovere un primo slider come potete vedere aumentando i ciano stiamo scaricando il nostro rosso perché introdurre del blu il blu è il contrario del rosso per cui andiamo a scaricarlo nel momento in cui invece sottraiamo del ciano stiamo andando a dare potenza al nostro rosso stiamo aumentando nella saturazione ci sono altre cose che possiamo fare per caricare maggiormente il nostro rosso per esempio possiamo provare a lavorare sul magenta e vediamo che se diminuiamo il magenta stiamo trasformando il nostro rosso in un arancione quasi in un giallo invece se aumentiamo il magenta stiamo caricando ulteriormente il nostro rosso e come vedete stiamo caricando anche l'arancione perché l'arancione contiene del magenta anche se in percentuali minori possiamo andare a lavorare anche sui gialli ovviamente se sottraiamo gialli stiamo introducendo dei blu e non è quello che vogliamo ma nel momento in cui andiamo a caricare i gialli vediamo che abbiamo caricato completamente il nostro livello del colore rosso adesso andiamo a vedere prima e dopo e ci rendiamo conto del fatto che abbiamo effettivamente apportato una modifica migliorativa se il nostro obiettivo era quello di saturare maggiormente il colore rosso a questo punto passiamo al colore verde quindi andiamo a selezionare la tendina del verde abbiamo saturato il rosso facciamo finta di voler desaturare il verde a questo punto che cosa andremo a fare andiamo a giocare con i nostri slider e ci rendiamo subito conto che se aumentiamo il ciano stiamo caricando il nostro verde mentre se togliamo ciano stiamo scaricando il nostro verde ovviamente verde e magenta non sono buoni amici per cui se io vado a togliere magenta sto aumentando il verde ma se vado ad aumentare il magenta sto scaricando il mio verde per quanto riguarda il giallo stessa cosa se vado ad aumentarlo gli sto facendo un favore se vado a diminuirlo lo sto spegnendo ulteriormente andiamo a vedere le nostre modifiche e ci rendiamo conto che con questo livello di regolazione siamo andati ad agire in maniera abbastanza precisa sui nostri colori nel senso che quanto meno le modifiche sul verde non hanno intaccato i blu e le modifiche sui rossi non hanno intaccato i verdi in questa maniera riusciamo più o meno a gestire tutto lo spettro luminoso in maniera molto molto precisa ora torniamo sulla nostra immagine e vi faccio vedere quello che faccio normalmente quando si tratta di correggere i colori di un'immagine come questa andiamo quindi ad aprire il nostro livello di regolazione correzione colore selettiva cominciamo dal principio andiamo a vedere che cosa vogliamo fare con questi rossi giochiamo con lo slider se andiamo ad aumentare il ciano nei rossi vediamo che quest'area si scarica molto non è quello che io desidero fare io voglio caricarla un pochino quest'area perché qui c'è il sole che sorge e quindi voglio dargli un pochettino di colore in questo caso vediamo che questa modifica è migliorativa per cui procediamo con il magenta se vado a togliere il magenta l'immagine si scarica ulteriormente se io vado ad aumentarli diventa troppo forte per cui questo potrei lasciarlo così com'è quasi certamente aumenterò un pochettino i gialli per caricare un pochettino di più questo sole che sorge nel momento in cui vado a toglierli vedete come l'immagine diventa sgradevole mentre se vado ad aumentarli la cosa è assolutamente gradevole andiamo a vedere un prima e un dopo ci rendiamo conto che questa prima modifica ha tirato fuori un po di saturazione in quest'area procediamo e andiamo a lavorare sui gialli quasi certamente non andrò ad aumentare il ciano all'interno dei gialli perché questo darebbe alla mia immagine un look molto freddo accentuerebbe molto i verdi e non è esattamente quello che voglio non voglio neanche però sottrarne troppo perché vedete che cosa succede se io ne sottraggo troppo ho sì un effetto gradevole sulla sulla zona del sole che sorge però il mio foliage diventa tipicamente autunnale io non voglio un foliage autunnale in questo caso perché questa immagine è invernale non autunnale quindi queste piante sono probabilmente dei sempreverdi se no a questo punto sarebbero completamente cadute le foglie per cui vado a dargli un meno 20 ma non voglio esagerare al tempo stesso andiamo a giocare un pochino con i magenta perché in questo modo riesco forse a ridare un pochettino di verde a quelle foglie senza ammazzare troppo il resto della mia immagine andiamo a vedere come si comportano i gialli e vediamo che probabilmente li lascio praticamente come sono ne sottraggo giusto un pochino ma senza esagerare bene andiamo a vedere che cosa possiamo fare per i verdi qua sì che probabilmente potremmo aumentare un pochettino il ciano ma proprio di poco poco perché tanto non vedo neanche una modifica visibile quindi non vado a insistere sottraggo invece un po di magenta perché verde e magenta non sono buoni amici in questo caso io sottraggo il magenta dal verde in questo modo dovrei riuscire a mantenere un pochettino il foliage al suo colore naturale passiamo ai ciano e ai blu che sono quelli un pochettino che mi preoccupano di più perché sono i più scarichi dell'immagine sicuramente nel canale dei ciano i ciano non li vogliamo diminuire li vogliamo aumentare perché io voglio portare fuori un pochettino di colore nel cielo una cosa che finora non abbiamo fatto vado ad aumentare anche i neri all'interno dei ciano perché vedete che cosa succede che lo scuriamo un po io voglio scurire quella parte quindi vado a dargli un pochino di nero probabilmente potrei anche sottrarre un po di giallo se vedete che se vado ad aumentare il giallo gli do una colorazione malsana che non è quella che voglio mentre se vado a diminuirli lo riporto un pochettino più verso il blu con il magenta posso giocarmela sulla tinta di questo cielo diciamo che probabilmente potrei lasciarlo così com'è non lo tocco mai di tanto perché se andiamo a fare una modifica estrema diventa molto poco naturale per cui stiamo nei pressi di come era originariamente andiamo a giocarcela sui blu sui blu facciamo più o meno la stessa cosa io non andrei mai a diminuire i ciano nei blu soprattutto se ho un cielo che effettivamente era blu andrei semmai ad aumentarli in questo caso li aumento anche di un bel po e vado nuovamente a dargli un pochettino di nero a questo punto mi gioco un pochino il magenta per decidere che gradazione dare a questo cielo e così mi sembra che vada bene potrei togliere un pochino di giallo senza esagerare a questo punto vedete che ho giocato con la saturazione della mia immagine e il risultato che ho ottenuto è che ho dato più saturazione al cielo ho dato un pochino di saturazione in più anche alle zone gialle e verdi ma selettivamente esattamente nella maniera in cui volevo io ho addirittura modificato la tinta di alcuni colori come potete vedere i verdi sono stati drasticamente modificati nel senso che hanno più giallo e questo significa che alcune zone vengono fuori maggiormente vedete nell'immagine originale era un verde più uniforme rispetto a quello che abbiamo creato con questa modifica perché ci sono delle parti di queste piante che contengono più gialli quelle aree vengono fuori maggiormente quindi abbiamo un'immagine con una maggiore profondità il cielo è decisamente migliorato e la nostra area del sole è più calda più riscaldata e al tempo stesso più saturata questo è il metodo che io utilizzo il 99 per cento delle volte quando devo modificare i colori sulle mie immagini a meno che non sia una modifica molto molto semplice perché è ovvio che se devo aumentare la saturazione di poco me la gioco in questa maniera e anzi vibrance e saturazione insieme possono dare dei buoni risultati per cui io potrei fare una cosa di questo tipo e vedete che in un attimo ho ottenuto un risultato che non è malvagio però potrebbe essere meglio infatti facendolo in questo modo sono andato ad agire esattamente sui colori che volevo ho portato fuori esattamente le tonalità che volevo nelle aree che volevo e l'ho fatto in maniera molto rapida senza dover utilizzare maschere pennelli e senza perdere tempo questo è il metodo più rapido e più efficace per aumentare selettivamente la saturazione dei colori all'interno della nostra immagine nel modo che più ci piace tenete anche presente che questo metodo di tutti quelli che abbiamo visto è l'unico che vi garantisce un risultato consistente infatti una volta trovato un settaggio di colori che vi piace è possibile salvare il vostro preset un preset una volta salvato comparirà automaticamente qui all'interno della tab dei preset in questa maniera è possibile richiamare queste impostazioni sulle immagini successive che andremo a post produrre e sarà poi possibile ovviamente modificarle a seconda dell'immagine ma mantenendo la stessa base di partenza questo è un ottimo metodo per avere una base di colore consistente per post produrre tutte le immagini nella stessa maniera è molto utile qualora si stia lavorando a un feed per esempio di instagram ma anche a un progetto che deve mantenere una sua coerenza anche cromatica è inoltre essenziale ai fini di sviluppare un vostro stile personale perché ricordiamoci che non è sempre sufficiente fare la post produzione sulle immagini ma è anche necessario dare il nostro tocco personale il nostro tocco personale difficilmente sarà qualcosa di questo tipo perché questa è una porcata quindi questo non è tocco personale questa è una schifezza ma nel momento in cui andiamo invece a operare una modifica consapevole sui colori andiamo a portare fuori certe tonalità perché reputiamo che stiano meglio e andiamo ad attenuarne certe altre perché non stanno dando niente alla nostra immagine stanno sottraendo attenzione da quello che è lo snodo focale su cui vogliamo invece mantenerla nel momento in cui andiamo a fare un lavoro di questo tipo la nostra immagine sarà sicuramente più accattivante in generale il nostro feed o il nostro progetto saranno più accattivanti ma la cosa più importante è che avremo fatto una scelta consapevole perché tirare su uno slider che coinvolge tutta l'immagine senza andare a selezionare i colori su cui stiamo lavorando è come sempre una scelta non professionale potremmo addirittura dire che non è una scelta in quanto non stiamo gestendo i nostri colori li stiamo semplicemente saturando tutti allo stesso modo senza criterio invece andando ad agire con la correzione colore selettiva siamo in grado di agire selettivamente solamente su certi colori risparmiando o attenuando invece certi altri questo è a mio parere l'unico modo di lavorare professionalmente coi colori su un'immagine ovviamente starà a voi decidere se vale la pena fare questo tipo di lavoro se ne vale la pena per voi stessi se ne vale la pena per il cliente su cui state lavorando e la risposta potrebbe non essere sempre sì a questo punto io vi invito a iscrivervi a questo canale lasciare un like e un commento a questo video se vi è piaciuto se vi ha interessato se vi ha dato delle informazioni utili e se vi ha aperto delle nuove strade su cui avete delle curiosità io spero come sempre di avervi insegnato qualcosa e vi do come sempre appuntamento al prossimo video